Voi sapete che la tutela della salute è prevista anche dall'articolo 32 della Costituzione però fate caso che l'articolo 32 è l'unico comunque uno dei pochissimi articoli della Costituzione dove non si parla di diritto del cittadino è importante questo cioè il diritto alla salute non è un diritto che ti deriva dalla cittadinanza in questo caso della cittadinanza italiana ma è un diritto che ti deriva dall'essere un essere umano è semplicissimo è un nella Costituzione le parole hanno un senso anche le virgole ma le parole hanno un senso secondo passaggio la Costituzione ha anche l'articolo 3 e nella seconda parte dell'articolo 3 c'è scritto che è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli economici e sociali che impediscono alle persone di godere dei diritti dei diritti affermati nella Costituzione stessa questa è la grandezza della nostra Costituzione che non è un arbitro o un semaforo che dirige il traffico ma che dà un compito alla Repubblica di intervenire nelle dinamiche sociali nel conflitto sociale a tutelare le persone più deboli per permettergli di poter utilizzare usufruire realmente dei diritti questo è il punto di partenza perché noi abbiamo pagato un prezzo spaventoso nella pandemia guardate che non è che stiamo pagando un prezzo come tutti gli altri paesi l'Italia è tra i primi dieci paesi al mondo per numero di decessi da covid e la Lombardia se fosse una nazione sarebbe solo al secondo posto dopo il Perù per il numero di morti per covid in relazione a 100.000 abitanti quindi e siamo un paese che ha un sistema sanitario sviluppato è qui il punto se noi abbiamo un servizio sanitario fortemente intriso permeato di aziende private che sono all'interno del servizio sanitario perché c'è il meccanismo dell'accreditamento cambia tutto 40 per cento della spesa sanitaria lombarda va al privato ma questo è qualcosa che riguarda poi tutta Italia allora la sanità privata ha come obiettivo di fare soldi come tutto il privato è legittimo e su cosa fa soldi sulla salute sullo star bene delle persone no fa soldi sulla malattia e sui malati quindi non è interessata la prevenzione sarebbe più corretto dire che anzi vede nella prevenzione un antagonista un concorrente allora i soldi che arrivano dall'Europa dovrebbero essere destinati prima di tutta la sanità e non è così sappiamo che una piccola parte va alla sanità ma quei soldi destinati alla sanità dovrebbero essere destinati prima di tutto ad aumentare la prevenzione aumentare la medicina territoriale prevenzione per evitare che la gente sia male avere i piani pandemici sapere come funziona un piano basato sull'epidemiologia tutto questo non c'è i primi soldi che arrivano per la sanità saranno destinati ad usare ad acquistare strumenti tecnologici avanzati a costruire nuovi mega ospedali abbe via dicendo non è questo il punto fondamentale non è questa la priorità mi preoccupa molto ma vi faccio un esempio incredibile capisco che riguarda solo lombardia ma fa capire la logica di tutto il sistema allora la lombardia deve cambiare la propria legge sanitaria e deve istituire i distratti sanitari le case di cura e gli ospedali di comunità di prossimità come pensa di farlo la lombardia finanziando il servizio pubblico no utilizzando i soldi che arrivano dell'europa per fare dei bandi aperti al privato perché arrivano a gestire perfino queste strutture guardate che la lombardia è il punto avanzato del neoliberismo dentro la sanità è quello che gran parte delle forze politiche vorrebbero applicare assolutamente a tutta italia e questo non riguarda solo la salute tu giustamente dicevi la pandemia è un prodotto di questo modello di sviluppo non c'è ombra di dubbio è un prodotto di un modello di sviluppo energivoro di sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta di un modello di sviluppo fondato sulla deforestazione sugli allevamenti intensivi e quindi l'abbattimento delle barriere tra le specie la zonosi e che quindi favorisce il salto di specie degli agenti infettivi il virus è il prodotto di questa situazione parte un nuovo piano con cui l'unione europea l'europa deve riprendersi e cosa si va a finanziare le grandi opere la tav e addirittura si arriva a pensare al ponte di messina cioè si va avanti in uno sfruttamento del pianeta all'infinito come se le risorse del pianeta fossero infinite e si va avanti quindi con delle grandi opere che saranno destinate a creare ulteriori problemi la partita che noi abbiamo di fronte è fondamentale tant'è vero che noi continuiamo a dire non si tratta di tornare come prima in termini di libertà sicuramente ma non ci salviamo se torniamo a rimpiangere il modello che ha prodotto questo disastro e quindi adesso la battaglia va condotto sul terreno dell'utilizzo di quei fondi vanno incalzati gli enti locali le regioni le strutture sanitarie per individuare quali sono le priorità con un monitoraggio ferreo non dobbiamo distrarci neanche un secondo perché il neoliberismo ha segnato dei passi di arretramento di fronte alla pandemia cioè alcuni dogmi portati come tali dalla commissione europea e da tutto quello che sta intorno hanno vacillato hanno parlato in questi 18 mesi di parità di bilancio sapete che l'italia per essere la prima della classe l'ha messo perfino in costituzione se sono ben guardati sono stati zitti ci hanno riempito per vent'anni dell'idea che si andava avanti se sanità e scuola venivano privatizzate adesso hanno dovuto dare i finanziamenti allo stato chiedere gli interventi della sanità pubblica per mettere una pezza a quello che accadeva il rischio è che per adesso con i soldi che arrivano si riparta invece nella direzione opposta quindi il tema che tu hai proposto è l'elemento centrale del conflitto sociale da realizzarsi nei prossimi mesi